Chi è andato vicino alla vittoria? Sapevamo di incontrare una squadra che fa gioco, una squadra costruita per salire, quindi noi potevamo pensare di poter fare gioco. Ci siamo difesi bene, siamo ripartiti molto bene, anche se devo dire che la mia squadra è stata costruita per cercare di fare gioco più che di partenza, però oggi il Varesi ci ha costretto a fare questo, però onestamente è un'occasione tremorosa per noi, quindi credo che alla fine del Varesi ha giocato molto più palla, ha avuto sicuramente la palla molto più grande del nostro, però la lezione è venuta in noi. Credo che il ramarico, senza nascondermi, sia più la parte nostra che la parte del Varesi.